oggi faremo una super review del mio portafoglio di freedom24 vi mostrerò tutte le posizioni vi mostrerò la posizione che ho anche in cash e cercherò di spiegarvi come sto cercando di costruirlo faremo una visione completa vi dirò una visione completa del portafoglio lo scopo principale è quello di farvi vedere come costruire un portafoglio partendo da zero secondo me è una figata pazzesca qualcuno nei commenti qualche volta scrive che sono un marchettaro che ormai faccio solo marchette però sì ovviamente c'è la marchetta perché sono sponsorizzato da freedom24 però penso che questi video abbiano un'utilità immensa nel senso che avete la possibilità per la prima volta di vedere come costruisco un portafoglio partendo da zero io sono il signor nessuno sono solo un ragazzo che cerca di investire il meglio possibile che condivide su youtube la sua esperienza però qualcosina piccolina la capisco dai diciamo che sono parecchi anni che investo quindi un po di esperienza ce le ho un po di cose le ho imparate negli anni quindi magari potete trovare qualcosa di utile nei miei video qualche spunto che potrebbe esservi utile però cosa importantissima non dovete assolutamente copiarmi non dovete prendere questo portafoglio come se fosse uno spunto un esempio da copiare e soltanto quello che sto facendo io e tra l'altro questo portafoglio è ad altissimo rischio nel senso che sto prendendo delle posizioni molto concentrate in società anche un pochino rischiose boh in realtà no secondo me non sono particolarmente rischiose però ci sono sicuramente dei rischi come in ogni investimento quindi non copiatemi perché altra cosa importante la grandezza di questo portafoglio sul mio patrimonio totale è abbastanza ininfluente un portafoglio estremamente piccolo per me perciò posso permettermi tranquillamente anche di avere brutte performance non che sia il mio obiettivo ovviamente però prendete in considerazione il fatto che su questo portafoglio prendo dei rischi più grossi rispetto a quelli che prendono normalmente normalmente non costruisco portafogli così aggressivi questo portafoglio come avevo detto nel primo video in cui avevo parlato di come avrei costruito il portafoglio sarà estremamente aggressivo ma perché posso permettermelo con queste cifre però non è sicuramente un portafoglio da prendere come esempio è un portafoglio estremamente aggressivo detto questo chiaramente cerco di costruirlo il meglio possibile il mio obiettivo è ottenere la migliore performance possibile però sto cercando di essere molto aggressivo quindi non copiatemi mai 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 non copiatemi assolutamente mai benvenuti su investire con gus sinceramente spero che appreziate questo genere di video in cui vi mostro come sto gestendo il mio portafoglio di freedom 24 fatemi sapere nei commenti datemi un feedback fatemi sapere quello che pensate di questi video se vi piacciono o meno e già che passate per i commenti se vi piacciono questi video per favore lasciate anche un mi piace grazie mille detto questo dobbiamo dire che freedom 24 è un broker che permette di investire in ipo ma anche in società normali sono un broker che sta appena iniziando a svilupparsi in europa perciò hanno ancora da migliorare però si stanno impegnando moltissimo stanno cercando di offrire sempre più strumenti e stanno cercando di migliorare la piattaforma e migliorare in tutto migliorare in generale e quindi secondo me stanno facendo un buon lavoro per adesso tra l'altro recentemente ho dato un'occhiata alle commissioni e sono veramente molto ma molto basse adesso state vedendo il piano commissionale e per il piano smart che è quello normale si paga una commissione veramente bassissima la commissione per azione dello 0,02 questo per acquisti effettuati in euro se invece acquistate in us dollars pagate lo 0,5 per cento più 0,012 per singola azione acquistata quindi su azioni europee acquistabili in euro la tariffa di freedom 24 è una delle migliori sul mercato se siete interessati a dare un'occhiatina a freedom 24 utilizzate il link affiliato che vi lascio in descrizione non dovete per forza aprire un account ma potete andare un'occhiata per farvi un'idea se possa essere un broker buono per voi ma adesso andiamo finalmente a vedere il portafoglio che ho costruito su freedom 24 avrei preferito fare questo video in circostanze migliori però purtroppo il mio tempismo non è stato buono recentemente il mercato è sceso un pochino e le mie azioni hanno sofferto parecchio quindi sono passato da essere abbastanza positivo ad essere abbastanza negativo però vabbè ovviamente investiamo per il lungo termine quindi le fluttuazioni di breve termine ci importano relativamente allora iniziamo subito dicendo che al momento 1558 euro in cash 7 sterline e 47 us dollars e il totale del mio account al momento è 3850 euro e considerate che tra pochissimo dovrebbero arrivarmi altri 2 mila euro perciò ho veramente molto cash a disposizione perché sto facendo così perché penso che i mercati al momento siano in una situazione di pericolo nel senso che si inizia a parlare di una potenziale recessione e penso che si potrebbe potenzialmente arrivare effettivamente e nonostante questo i mercati sono parecchio alti e non dico a livello di grafico ma parlo a livello di valutazione i price earnings sono veramente molto alti rispetto alla media storica e lo stesso vale per qualsiasi altro multiplo quindi forse al momento è il caso di essere un tantino prudenti però un altro motivo per cui ho così tanto cash è che sto appena iniziando a costruire il portafoglio quindi non ho chissà quante azioni in cui voglio investire sto ancora cercando nuove azioni in cui mettere i miei soldi al momento poche posizioni perché ho difficoltà a trovare qualcosa in cui investire perciò il motivo per cui ho così tanto cash è un mix di queste due ragioni la principale chiaramente che non riesco a trovare chissà quante azioni pian pianino ne sto analizzando altre però l'analisi di un'azione l'analisi completa di un'azione richiede molto tempo quindi ci vorrà un po' per costruire completamente il portafoglio quindi una cosa importante se anche tu stai appena iniziando a costruire il tuo portafoglio non avere fretta non c'è fretta investiamo per il lungo termine orizzonti temporali di 10 20 30 40 50 anni quindi non è necessario andare all in subito per paura di restare indietro facciamo le cose con calma prendiamoci il tempo che serve e costruiamo un portafoglio il meglio possibile senza farsi prendere dalla fretta o della voglia di investire per forza ma adesso vediamo finalmente le posizioni che ho nel portafoglio al momento la posizione più grossa è crocs questa è un'azione di cui vi ho parlato nel dettaglio in questo video e dopo quel video ho aumentato ho comprato ancora un po di crocs e tendenzialmente continuerò a fare così continuerò a comprare sulla debolezza è un'azione in cui ho molta convinzione potrebbe soffrire se arrivasse una recessione sicuramente però non credo neanche che soffrirebbe tantissimissimo e soprattutto penso che nel momento in cui la recessione finirà e l'economia ripartirà crocs ci impiegherà veramente molto poco a tornare ai livelli di un'eventuale pre recessione quindi sono abbastanza tranquillo nel momento il price earning forward è circa 7 perciò penso che sia una valutazione molto interessante considerata la crescita che questa azienda davanti a sé nei prossimi anni questo è il motivo per cui la posizione è così grossa vale il 20 per cento del portafoglio totale 19 per l'esattezza poi la seconda posizione più grossa è PLBY questa è una posizione un po più rischiosa rispetto al crocs perché è una società ancora non affermata è una società ancora abbastanza instabile abbastanza giovane in crescita però la società in cui ho altissima convinzione penso che questa sia una società che può crescere anche durante una recessione perché è una società growth una società che si sta ancora espandendo che ancora in una fase iniziale della sua crescita perciò penso che potrebbe crescere anche in un periodo di recessione inoltre di PLBY mi piace tantissimo il management perciò mi sento abbastanza tranquillo ad avere una posizione così grossa su PLBY se volete vedere la mia analisi completa di questa azione andate a vedere questo video e poi abbiamo la terza posizione che è ASO questa purtroppo vale solo l'undici per cento del portafoglio questo è stato un mio errore non sono stato bravo a sfruttare il suo calo sono stato un pochino più conservativo tranquillo paziente perché mi aspettavo altri potenziali cali di mercato e sono stato stupido sì possiamo dirlo perché reputo questa posizione a bassissimo rischio il price earning attuale è una cosa imbarazzante e tra l'altro reputo che questa società tra quelli che ho in portafoglio sarà quella che potrebbe reggere meglio ad una recessione perché il business di ASO vende prodotti che si puoi più o meno farne a meno durante una recessione però quando tuo figlio ti chiede mamma mamma voglio fare sport comprami le scarpe cosa gli dici no figlio c'è la recessione no tendenzialmente comprerai a tuo figlio quello che gli serve per fare sport perciò andrai da academy sports and outdoors inoltre gli americani quando ci sono periodi di recessione vanno un pochino in follia e comprano parecchie armi e ASO vende anche armi quindi penso sia una società posizionata veramente benissimo in caso di recessione soprattutto perché sono il value player cioè sono la società del settore che vende i prodotti a più basso prezzo quindi tendenzialmente andrai da academy sports and outdoors durante una recessione piuttosto che da un footlocker che vende nike a prezzi folli perciò penso che ASO sia ben posizionata anche nel caso in cui arrivasse una recessione prima di continuare a vedere le posizioni voglio esporvi un rischio della mia esposizione come avete notato il 47 per cento del portafoglio è investito in società che si occupano tendenzialmente di vendere vestiario questa è una fortissima esposizione ad un singolo settore ed è ovviamente un forte rischio è molto rischioso esporsi tanto ad un singolo settore perché tendenzialmente le società di un settore tendono a muoversi in maniera molto simile però se la storia mi insegna qualcosa spesso i vari settori i singoli settori si muovono nello stesso modo cioè società del settore vestiario tendono a muoversi alla stessa maniera quindi anche società superiori vengono penalizzate se un settore è visto negativamente quello che sta succedendo nel settore retail al settore moda mi ricorda moltissimo quello che è successo nel 2018 al settore semiconduttori infatti nel 2018 le società di semiconduttori venivano vendute avevano raggiunto dei price earning imbarazzanti tra 10 e 12 cose del genere perché c'era una negatività sul settore veramente bestiale un po' si pensava che i ricavi sarebbero scesi un po' per i dazi che trump voleva mettere sui prodotti importati dalla cina perciò il mercato era totalmente negativo su questo settore e sappiamo bene come è finita il settore poi ha avuto un boom mostruoso e penso potrebbe succedere una cosa molto simile al settore della moda il settore del vestiario e tante società superiori stanno venendo penalizzate in maniera assolutamente ingiusta alcune società di questo settore è giusto che crollino ma quelle che ho in portafoglio non credo assolutamente perciò sì è un rischio però penso che questo settore stia già scontando una recessione le valutazioni sono veramente bassissime quindi sì il rischio è che io mi stia esponendo troppo ad un singolo settore però lo sto facendo per un motivo lo sto facendo perché reputo il settore e in particolare queste azioni molto sottovalutate però questo ovviamente mi ha portato a pensare che c'è bisogno di altro in questo portafoglio non posso espormi soltanto al settore retail e per questo motivo ho acquistato prima tqqq e poi baby gift ford us growth trust infatti volevo espormi al settore tecnologico perché non avere tecnologie in portafoglio non si può vedere e come vi ho già spiegato ho optato per questi due chiamiamoli etf uno è un etn una nazione tecnicamente però è un'azione di un fondo perché ho reputato che ci fossero veramente tante occasioni nel settore tech perciò mi sarebbe stato molto difficile scegliere la migliore e quindi ho preferito adottare un approccio più diversificato qua come vi ho già accennato in un altro video ho fatto un errore cioè la mia posizione in tqqq è stata troppo piccola ho preso una posizione che valeva il 2 per cento del totale perché mi aspettavo che il mercato sarebbe sceso ancora un pochino questa è una cosa estremamente stupida perché mi sono messo a fare market timing una cosa che dico sempre di non fare questo purtroppo è stato un errore però magari crollerà ancora e avrò la possibilità di caricare la mia posizione quindi circa il 10 per cento in tech e ancora probabilmente una posizione un po piccolina però come vi dicevo avrei intenzione di continuare a comprare sia bayley gifford che tqqq vediamo se il mercato ne darà la possibilità altrimenti mi piacerebbe trovare altre società tech quindi al momento il portafoglio è sovraesposto ad un settore questo è evidente però sinceramente mi va benissimo poi abbiamo anche fselle che l'azione che mi ha regalato freedom 24 quando ho aperto il conto perciò non considerate la la tengo qua come se fosse un c medio quindi come avete visto chiaramente il portafoglio è sovraesposto ad un singolo settore perciò tendenzialmente non comprerò altre azioni altre società diverse da quelle che ho in portafoglio in quel settore non escludo che aumenterò le posizioni che ho già quello lo potrei fare mi sento abbastanza tranquillo a farlo però non comprerò altre società nel settore vestiario tendenzialmente se lo facessi sarebbe soltanto se trovassi un'occasione veramente imperdibile irripetibile mi piacerebbe comprare ancora qualcosa di tech vediamo se riesco a valutare qualcosa nelle prossime settimane nei prossimi mesi se riesco effettivamente a trovare qualcosa perché mi piacerebbe aggiungere anche qualche singola società e poi chiaramente mi piacerebbe trovare anche altri settori perché è un portafoglio veramente ancora molto limitato a livello di diversificazione poco diversificato e questo avevo già detto nel primo video sarà un portafoglio estremamente concentrato questo sì però vorrei diversificare un pochino in vari settori non mi piace comunque avere tutto in un solo settore quindi vorrei diversificare un pochino di più però questo portafoglio è un work in progress mi pare che esista da febbraio questo portafoglio se non sbaglio quindi siamo veramente alla sua nascita appena perciò il tempo per costruirlo lo avremo lo abbiamo lo ho io in verità perché lo costruirò io quindi dovete guardarlo come se fosse un'opera in lavoro non è un portafoglio fatto e finito è ben lontano dall'essere concluso dell'essere costruito in maniera completa diciamo mi piacerebbe magari aggiungere qualcosa nel settore litio nel settore terre rare ho già un'idea su cosa comprare però deve scendere ancora un pochino andate a vedere questo video in cui ho parlato della grande opportunità che si sta formando nel settore del litio quello mi piacerebbe molto ma per il resto non ho grosse idee al momento sto ancora a caccia di nuove azioni di nuove di nuovi potenziali investimenti interessanti fatemi sapere cosa ne pensate di questo portafoglio e magari fatemi sapere quali sono delle azioni che potrei aggiungere a questo portafoglio datemi qualche consiglio non consiglio finanziario ovviamente ricordatevi di andare a dare un'occhiata a freedom 24 perché magari potrebbe essere un broker buono per voi vi lascio il link affiliato in descrizione per questo video è tutto se vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e condividete il video con tutte le persone che conoscete fino al prossimo video buoni investimenti a tutti ciao